buongiorno a tutti oggi apriamo la collezione grafai ai ex vediamo cosa ci regala questa questa collezione qui abbiamo grafai ai promo e qui abbiamo un'altra carta promo abbiamo la giambo di grafai ai e abbiamo quattro pacchetti abbiamo due di cronoforze uno di paradosso temporale e uno di lucentezza siderale apriamo lucentezza siderale vediamo cosa troviamo in questo pack codice bianco perciò non troveremo nulla quattro in avanti energia turbo tattico devo villaggio teddy ursa mantin shaiter basculin voltorb teddy ursa reverse e oreggie leghi raro nonolo diamo con paradosso temporale trick ad uno energia mienfo feroseed gablai pampur capsula energetica codorlante sacco fereo feroseed reverse tinka 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 reverse e fungo furioso olografico tiroso andiamo con cronoforze forze, energia acqua, carvagna, encas, tartuie, pochigliena, energia nebbia, pel di sabbia, behem, electriv reverse, snum bellissima e un spine ferrea olografico. Andiamo con l'ultimo cronoforze e mi sa che abbiamo trovato soltanto questo pull, energia buio, metan, carcol, grottole, finizer, boltur, descrizione esperta, fermezze di angelo, reverse, escadrille, reverse, feraligator, olografico ed energia erba. Perché? Due energie, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. 12 carte. E con questo unico pull vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di cliccare mi piace ai video e ci vediamo la prossima volta. Buona serata a tutti!